Blitz dei carabinieri a Roma, sgomberato un complesso di ville di proprietà riconducibili ai Casa Monica, gli immobili nella periferia est della capitale tra Morena e Ciampino, avevano piscine, arredamenti di lusso, un totale di 3.000 metri quadrati, già oggetto di confisca, ora saranno destinati ai carabinieri dal sindaco Gualtieri, un grazie alle forze dell'ordine, un intervento dice che contribuisce a ripristinare la presenza dello Stato, a riaffermare la legalità soddisfazione espressa anche dalla ministra Luciana Lamorgese, una liberazione significativa, dice, in luoghi con una forte influenza criminale